Nel corso di questi 30 anni abbiamo distribuito più di 400 film, piccoli e grandi, provenienti un po' da tutto il mondo, spesso sono diventati dei successi, li abbiamo resi accessibili al pubblico più vasto. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di realizzare e distribuire film di grande qualità ma anche film di generi molto diversi tra di loro. Il primo è stato Let's Get Lost, il film di Bruce Weber su Chad Baker. La prima stagione importante è stata nel 1993 quando ci si è resi conto che c'era una società che si chiamava Lucky Red e che cominciava un po' a marcare il passo ed è stata la stagione in cui avevamo Caro Diario di Nanni Moretti, Molto Rumore per Nulla che è stato il primo successo di Kenneth Branagh, Banchetto di Nozze che aveva vinto un premio importante a Bellino e il film che ha fatto conoscere Ang Lee in Italia, Belle Epoque che vinse l'Oscar come miglior film straniero e fece conoscere Penelope Cruz e quella è stata la prima, come dire, il primo grande stagione nostra. Poi ci sono stati altre pietre mondiali, miliardi importanti come quando siamo entrati in produzione per la prima volta, Con l'amore molesto, era il 1995, il film fu scelto in concorso a Cannes, era l'unico film che rappresentava l'Italia a Cannes. Poi ci sono stati tanti capolavori che avete visto lì, da Oldboy a Festen, alle onde del destino, a Mare Dentro e tanti altri. Poi i grandi successi, Shine con l'Oscar Jeffrey Rush, In and Out, i soliti sospetti, The Others, The Millionaire che vinse otto premi Oscar. Insomma ogni anno cercavamo di superare i nostri stessi record con i premi e con gli incassi. Poi siamo arrivati a stagioni più recenti come l'anno scorso dove Il Piccolo Principe è diventato il primo incasso per la Lucky Red e lo chiamavano G-Robot, è stato il primo incasso italiano sempre per noi. Quest'anno una doppietta agli Oscar, miglior film con Moonlight, miglior film straniero con Il Cliente, un successo ancora caldo nelle sale che è Famiglia all'improvviso, terzo incasso nella nostra storia. Tutto questo ci ha portato a essere la prima distribuzione indipendente per il quarto anno e per darvi un po' il sapore di quello che vedrete distribuito da noi l'anno prossimo. Ci sarà per la prima volta con noi Woody Allen, con Wonder Will, con Kate Winslet e Justin Timberlake, il nuovo film di Steven Soderbergh, Logan Lucky con Channing Tatum e Daniel Craig, il primo film americano diretto da Xavier Dolan, La Mia Vita con John F. Donovan con un cast incredibile, Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon, Katie Bakes e Keith Harrington e ancora un regista straordinario per la prima volta in un listino Lucky Red, Ridley Scott, All the Money in the World con Kevin Spacey, Michelle Williams e Mark Wahlberg che sta non girando proprio in questi giorni a Roma e il film sul caso del sequestro del nipote del milionario del petrolio Paul Getty. Come tutti sapete il core business della Lucky Red è sempre stata la distribuzione, anche se è importante ricordare che Lucky Red oggi è attiva in altri campi come l'esercizio, in particolare con circuito cinema dove siamo l'azionista di riferimento, il primo circuito di sale di qualità in Italia che programma 130 schermi. Due anni fa Lucky Red insieme a Indigo ha fondato una società di vendita estere, True Colors, con lo scopo di esportare il meglio della produzione italiana. In questi due anni è già diventata una realtà, i film che sono stati venduti all'estero con successo sono stati perfetti sconosciuti, le confessioni indivisibili, Fortunata, ci sarà anche il prossimo film di Fersa Nozpetek, dunque film di vari produttori non soltanto di Lucky Red e Indigo. Insomma il nostro obiettivo è quello di diventare una società integrata come succede in Francia, una società che segue tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione alle vendite estere. Ma veniamo al motivo principale di questo incontro, la produzione di film per il cinema. Il primo film prodotto come vi ho detto è stato L'amore molesto e da allora sono circa 40 i film che abbiamo prodotto o coprodotto, tra cui Il Divo, This Must Be The Place di Paolo Sorrentino, La Prima Linea, Incantesimo Napoletano, Il nome del figlio, Io e Lei e decine di altre coproduzioni europee. Avevamo annunciato un maggior impegno nella produzione, la notizia è che Lucky Red vuole diventare una delle principali società di produzione di cinema in Italia e questi saranno i film che produrremo da soli o con altri partner. Sul fronte internazionale il prossimo film è di Asgard Faradik, due volte premia Oscar, una coproduzione tra Francia, Spagna e Italia. Lucky Red produce insieme il Rai Cinema, saluto Paolo Del Brocco. Le riprese inizieranno a fine agosto vicino a Madrid nel cast Penelope Cruz, Javier Bardem, Riccardo Darin, è un thriller, non posso dirvi di più. Ma entriamo più nel dettaglio dei film italiani. Gli sdraiati è il nuovo film di Francesca Archibugi, le riprese sono iniziate il 22 maggio, è tratto dall'omonimo libro di Michele Serra, produciamo insieme a Indiana Production e a Rai Cinema. Ci sono qui Don Vito, Abib e Cohen, non so se ci sono o non li vedo, li saluto se ci sono. Il protagonista è Claudio Bisio e vorrei invitare sul palco Francesco Piccolo, sceneggiatore insieme a Francesca Archibugi del film. E mentre noi ci mettiamo da parte c'è un saluto e auguri che ci ha mandato Claudio Bisio. Volevo salutarvi, volevo... fare gli auguri a Lacherede che compie 30 anni, io sto girando, volevo essere lì, me l'ha chiesto Andrea, Occhi Pinti, me l'ha chiesto tutti i collaboratori di Lacherede, sono lì, è come se fossi lì, in realtà sto girando un film, pensate, distribuito da Lacherede, non poteva essere altrimenti, si chiama Gli sdraiati, è tratto dal romanzo di Michele Serra, romanzo che ha vinto tanti premi, ha venduto 350.000 coppie, cos'è? quello lì che conosciamo tutti, io faccio il papà, il rapporto tra un padre e un figlio, io sono il padre, comunque non parliamo del film che uscirà quest'autunno e parleremo più avanti, volevo soltanto fare gli auguri e dire che idealmente sono, no, c'è gente che lavora, c'è gente... e questo è il set, la regina di Francesca Archibugi, prima volta che lavoro con lei, piccolo alla sceneggiatura e io vi saluto, ciao! Sì, vi ricordo il film messe 23 novembre. Francesco, se corriamo, insomma, ho letto nell'intervista che ha fatto Francesca, che diceva che Serra è rimasto sorpreso quando ha letto la sceneggiatura, mi ha detto ma c'è un sacco di roba! Eh sì, perché questo film è un film atipico, è stato atipico scriverlo, perché è un film tratto da un libro, ma quando tutti entusiasti abbiamo cominciato a lavorare, perché ci piaceva molto questo libro, ci piaceva molto l'idea di portarlo sullo schermo, ci siamo accorti che prendendolo tutto, tutto, tutto intero, senza perdere neanche una virgola, c'erano dodici scene, un film è un po' più lungo e quindi praticamente abbiamo dovuto costruire un'altra cosa dentro più articolata, con dei personaggi, con altre cose nuove, che credo siano la curiosità di questo film, cercando di lasciare non solo quelle dodici scene per forza, perché sennò Serra ce menava, ma cercando di lasciare invece gli sdraiati come spirito totalmente. Adesso vedremo, e lo vedremo presto, se ci saremmo riusciti, visto che esce così presto. Tu e Francesca avevate già lavorato insieme, per esempio, a nome del figlio, anche lì avevate fatto un lavoro fantastico, che andava al di là dell'adattamento, insomma è stato proprio un lavoro di riscrittura. Ti ringrazio e aspettiamo tutti di vedere il film. Grazie. Il prossimo film che vogliamo presentarvi è Ride, è un film che sarà girato in lingua inglese, pensato anche per il mercato internazionale. Questo film nasce da un'idea di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, tutti li conoscono come Fabio e Fabio, e vorrei invitarli sul parco insieme al regista Jacopo Rondinelli. Grazie. Vieni tu anche tu Marco, che è l'altro sceneggiatore. Come è nata quest'idea, che cos'è un po' il concept di questo film? L'idea diciamo che è nata dalla volontà di continuare il percorso cominciato con Mine, quindi appunto Ride sarà un altro film in lingua inglese, un film di genere. In questo caso l'idea è stata quella di fondere il linguaggio dei film thriller horror con l'estetica e le tematiche dei filmati di sport estremi che sono sempre più visti su internet e sono girati con le famose GoPro, c'è queste camerine piccole che si mettono ovunque e infatti il film sarà interamente girato in GoPro, che è una cosa molto sperimentale, infatti siamo stati piacevamente colpiti da Lucky Red nel momento in cui ci hanno detto sì, perché noi siamo venuti portandovi una sceneggiatura abbastanza pionieristica in quanto due italiani che propongono un thriller barra horror con qualche venatore di fantascienza interamente girato con queste camere, quindi secondo una nuova tecnica di ripresa per i lungometraggi e Lucky ha detto sì lo facciamo, quindi questa cosa ci ha... Quindi adesso dobbiamo farlo. Quindi adesso dobbiamo farlo, sì. Jacopo vuoi aggiungere? Ebbene sì, io poi sono stato tirato in mezzo... Scusa. Sì, adesso vedremo come andrà questa cosa. No, ovviamente sono strafelice e molto emozionato perché come giustamente diceva Fabio prima, è un film che in Italia sicuramente nessuno ha mai fatto così e non dico anche in tutto il mondo ma quasi, nel senso che appunto l'estetica è quella dei filmati di sport estremi, GoPro, ci saranno scene con addirittura dieci camere che girano contemporaneamente, droni, di tutto di più, stuntman, ci sarà anche un bel lavoro di post-produzione, il film poi sarà girato in Trentino, le riprese inizieranno a fine agosto per cinque settimane, quindi siamo lì, stiamo lavorando di brutto, siamo molto molto emozionati, molto assorbiti da questo progetto e niente, io mi faccio e ci faccio un grosso in bocca al lupo perché è veramente tosse. Fateci un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie. Lascia pure il video. Grazie. Il prossimo film ha un titolo provvisorio che è La Befana viene di notte, è un'idea di Nicola Guaglianone che ci ha subito entusiasmato, nella sua sceneggiatura aveva già pensato che la protagonista si sarebbe chiamata Paola e anche questa idea ci è piaciuta moltissimo, vorrei invitare sul palco Nicola Guaglianone e Paola Cortellesi. Le riprese inizieranno a novembre, la regia è di Michele Soavi che ha avuto successo in televisione con Rocco Schiavone e sta girando un film per cui non può essere qui con noi, noi eravamo alla ricerca di un family, l'abbiamo trovato. E avete fatto un family e un fantasy. Paola vai, che cos'è? No, basta, ho detto soltanto questa cosa molto intelligente e adesso passerai la parola a lui. Cioè Nicola aveva avuto appunto questa intuizione di chiamarla Paola, la protagonista. No, Nicola ha fatto l'incontro con loro e con questi due signori e mi hanno detto, e poi Nicola ha cominciato a parlare e ha detto Paola guarda ho avuto questa idea. Allora, La Befana, ho pensato subito a te, eh? Grazie, intanto ho mascherato comunque anche un po' di... Però poi invece mi sono sentita molto lusingata, no? Sto scherzando, è una bella storia ed è bello, Nicola è straordinario, sono felice di lavorare ancora una volta con Andrea perché l'altro progetto in cui ho stato coinvolto è stato il Piccolo Principe nel doppiaggio naturalmente che era un capolavoro. È stato bello, sì, bellissimo. Perciò, no, è una bella storia ed è bello perché mi fa piacere che si faccia un fantasy ogni tanto. Insomma, non se ne fanno tantissimi, alcuni sono molto belli, però in Italia è un genere poco frequentato quindi sono contenta di farne parte, con un naso importante, anche un neo peloso, diciamo, e anche un mento molto importante. Cioè, da dire che, intanto l'hanno scritto, questo lo possiamo dire, che è la Befana di notte, poi di giorno invece fa la maestra, no? Allora dice, perché hai pensato alla Cortellesi? Perché comunque la maestra è, per uno studente, è la tua seconda mamma, no? E a me la Cortellesi mi ispira tanto senso materno. Tanto senso materno. Un po' materno e un po' Befana. Lusingata. Quanto è bella l'amicizia. Di farmi preparare la cioccolata calda, di vedere i film, è così, perché è meravigliosa. Però è una cosa bella. Ma che roba sarà? Che roba sarà? Ma guarda, diciamo, usando paroloni di film che hanno costruito un immaginario, un po' come il logo Lucky Red, no? Che come sentivi quella musichetta e quella pennellata, te andavi a casa e lo sapessi di vedere un film di un certo tipo. Diciamo, i Gunis, Mitz, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. L'idea, io, mio padre era un dirigente degli aeroporti Roma, è successo un po' quello che era successo a Troisi, che aveva il padre che era un capo stazione, perché erano gli anni 80 in cui le società, le grandi società, volevano essere proprio le mamme di tutti i dipendenti e ti facevano la Befana. Mio padre è dirigente degli aeroporti Roma e ogni anno ci arrivava l'aereo, per 15-16 anni, cioè ogni anno al 6 gennaio ti svegliavi, quali erano i regali, un aereo. Allora ha detto, vabbè, bisogna vindicarsi nei confronti di questo film e rendergli la vita difficile e da lei è venuta fuori questa storia. Grazie. Grazie. Grazie a voi. C'è lo scalino che se no... Come dicevo prima, la nostra idea è quella di fare film molto differenti gli uni dagli altri, un po' quello che abbiamo fatto con le nostre proposte nella distribuzione. E cambiando completamente registro, il prossimo film che presenteremo è tratto da una storia realmente accaduta, una drammatica e tragica vicenda che tutti conoscete e che ha coinvolto Stefano Cucchi e la sua famiglia. Produciamo insieme a Olivia Musini per Cinema 11, che saluto. Dov'è Olivia? Eccola là. E vorrei invitare sul palco Alessio Cremonini, questo sarà il suo debutto cinematografico, insieme alla sceneggiatrice Elisa Nur-Sultan e a Jasmine Trinca che interpreterà Ilaria Cucchi. Il film, le riprese saranno prese e inizieranno in autunno e questa sceneggiatura ci ha colpito moltissimo e volevo chiedervi un po' come avete lavorato, su che materiale, come vi siete documentati per scrivere quella sceneggiatura che è veramente molto forte. Grazie mille, anche a nome di Elisa. E intanto 10.000 pagine di verbali, letti e studiati più volte. Poi parlare con Ilaria, la sorella di Stefano, l'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, i genitori, gli amici. E soprattutto trovare la giusta distanza con questo argomento senza diventare dei fan di una o dell'altra parte. Ecco, proprio avere il rapporto giusto con questa vicenda. Questa è stata la cosa più difficile e farne un film. E quindi che sia qualcosa che ti prende quando lo vedi. Ecco. Il protagonista sarà Alessandro Burghi che sta girando un altro film e per questo non può essere qui. Lisa vuoi aggiungere qualcosa rispetto anche alla difficoltà di raccontare una storia in qualche modo anche abbastanza recente? Noi la giusta distanza l'abbiamo trovata probabilmente immergendoci in queste carte, passando nella fase emotiva, perché all'inizio è stato molto doloroso, per poi avere una fase ossessiva di completa immersione in questa vicenda, perché 10.000 pagine, comunque sono 10.000 pagine non da leggere ma da studiare. Quindi l'estate scorsa per me lui è stato un po' un viaggio dentro questo dolore, però poi c'è stata una fase di lucidità attraverso cui abbiamo visto cosa noi non sapevamo di questa storia, che poi sono tutti piccoli dettagli di percezioni interne, esterne della famiglia, nella complessità di tutti i personaggi. E questa è uscita poi come la realtà che volevamo restituire di questa tragedia, che è una tragedia vera nel senso classico del termine. Jasmine, ti presti a interpretare un personaggio di una combattente, perché Ilaria lo è, l'abbiamo conosciuta, e se non fosse stato per lei probabilmente questa storia non si sarebbe conosciuta, se non fosse stata per la sua tenacia, per la sua voglia di scoprire la realtà. Tu l'hai incontrata, l'hai conosciuta? Sì, Andrea, ti direi così, in maniera semplice, più che personaggio, persona. Ilaria Cucchi è una donna che non parlo come attrice, perché poi qui è molto sottile la distinzione. Tutto quello che è stato per me l'incontro con lei e che sarà, spero, non sarà per carpire, succhiare qualcosa che non sia, invece il tentativo di restituirle la forza, l'energia, l'integrità di una donna che è lei, che fa la sua battaglia per il suo fratello insieme alla sua famiglia, fa una battaglia per sé, ma la fa per tutti noi e per me come donna, come persona, come quello che vorrei veramente che la mia piccola figlia vedesse davanti a sé è un tale esempio limpido di umanità, che quindi spero di poterla raccontare senza fare nessun tipo diverso, ma cercando di restituire quella forza che poi non è la forza appunto dei supereroi, ma è quella forza che sta nelle persone vere, non soltanto di fronte alla disperazione, ma forse di fronte alla speranza di un mondo diverso, che questo film veramente si augura. Sono rimasta tanto colpita dalla vostra scrittura e non è cosa comune, è molto difficile poi permettersi di fare un film da una storia così, ma se non lo si fa invece e se si lascia soprattutto la strada ad altri che magari no, vogliono raccontare lo spettacolo, qua si racconta la brutta vita reale e anche insomma invece la bellezza di questa vita che va. Grazie, grazie Giosmi, grazie. Ed infine il prossimo film di Gabriele Mainetti, che continua la sua collaborazione con Nicola Guaglianone. Posso dirvi che non si tratta di un film coreano, non si tratta del sequel di Jig Robo, invito Gabriele e Nicola a venire sul palco, date gli microfoni. Gabriele, innanzitutto ti chiedo come lavorate insieme con Nicola, perché insomma sia i tuoi corti che il tuo strepitoso debutto... Sì, ormai sono vent'anni di lavoro, di sopportazione, ci amiamo, ci odiamo, vogliamo sposarci, vogliamo lasciarci. Adesso siamo, diciamo così, in sintonia. Di solito lui mi chiama e mi piccia una serie di idee, dico questa mi piace, ne parliamo, ne parliamo tanto, poi Nicola scrive il soggetto, ne ridiscutiamo, riscrive il soggetto, poi scrive la scaletta, ne ridiscutiamo, poi scrive la sceneggiatura, ne ridiscutiamo, poi faccio le note e poi si scrive ancora. Ci picchiamo, ma tu non capisci, il personaggio deve andare là, ma a me che mi frega di dove deve andare, voglio che vada là perché mi ci devo rivedere. E poi ci troviamo e lui mi lascia andare, perché il film, come dice sempre lui, purtroppo è del regista. Ma guarda, ma non è che purtroppo, c'è una cosa da dire, quando tu scrivi una sceneggiatura e stai con quei personaggi giorno e notte, te li porti veramente sotto la doccia, al letto, a campagna, al mare, poi arriva il giorno che la devi abbandonare, devi fare una separazione, la devi lasciare, no? Ed è un po' come lasciare, tua figlia adolescente, 13-14 anni, ha una manica con tutto il rispetto, diciamo, che ne so, dei camionisti, e gliela dai, no? E gliela dai, dice ciao, torna domani sera, e sai casa così. Io mi sento però tipo Silvester Stallone, no, per The Top, capito? Che poi c'è di Heiner, il figlio, capito? Fa tutto per lui. Però dopo la figlia delle persone, Gabriele, forse l'unico, insieme a qualcun altro, insieme anche, per esempio, a Edoardo, a De Angeli, però la figlia delle persone che sai che la tratteranno bene, che la porteranno a mangiare bene, la vestiranno bene, un po' ti fidi, no? Hai un po' paura, ma se... No, perché poi infatti ti ritorna a casa un po' più adulta, non cambiata. Cioè non è che arriva con i piercing, che si fai tagli, no, viene un po' più migliorata, ecco. Senti, ma le riprese inizieranno a gennaio. 15 gennaio, scrivete tutti, così è sicuro. Una preparazione, scusami, piano piano è già iniziata. Sì, sì, adesso stiamo iniziando. Non so quanto vuoi raccontare di questo. Cioè, vuoi dire, assomiglia a mondi tuoi che abbiamo già visto, mondi vostri che abbiamo già visto. Beh, sì, ma guarda, Nicola, in realtà questa storia è stata, l'abbiamo, l'hai pensata e poi l'abbiamo pensata insieme a fine 2015, e quando l'abbiamo raccontata ci è stato detto, ma questo dovrebbe essere un terzo, un quarto film, solo se Gig andrà molto bene potremmo lanciarci magari in una produzione di un film così complesso, e Gig è andato oltre le aspettative. Sì, ci piace perché è chiaro che riguarda la nostra ricerca di cinema, cioè il tentativo di trovare, insomma, di cercare una visione, perché uno dice, sai, io so che questo è il mio cinema, io non lo so qual è il mio cinema, io cerco il mio cinema e Nicola mi aiuta a trovarlo. Ed è, questa ricerca nasce sempre quando mi trovo di fronte a qualcosa di molto difficile, di rischioso, che appunto faccio fatica a vedere nella costruzione, nella collaborazione con quello che poi dopo sarà la mia troupe, realizzo questa visione, perché non è che ce l'ho tutto quanto in testa, se lo vedessi già subito non ne sarei attratto. Come hai detto tu, non sarà un thriller sudcoreano, amo il cinema sudcoreano, sto aspettando il 28 giugno sul Netflix, Bob John Wong con Okja, che è un regista che adoro, però non ha niente a che fare con quel mondo, è un film italiano, è ancora a Roma, è un film corale e più di questo non vi posso dire. Grazie, grazie, grazie Nicola, grazie a voi. Mi fai dire una cosa? Prego. Allora, guaglione è lui, guaglianone per i giornalisti, perché sennò donale è guaglione, grazie. Allora, questi sono i film che partiranno entro la fine dell'anno e l'inizio del 2018, ma in realtà stiamo lavorando anche a tanti altri progetti, e a questo proposito ringrazio alcuni degli autori che sono in sala, e ne approfitto anche per segnalarvi che stiamo lavorando su una serie di libri, tra cui Una storia nera di Antonella Lattanzi, Antonella la saluto, dove sei? Eccola là, ciao Antonella. La più amata di Teresa Ciabatti, finalista al premio Strega, e la graphic novel Golem di Lorenzo Ceccotti, che diventerà un film di animazione. Anche Lorenzo credo che sia qui, vorrei salutarlo, eccolo là, ciao Lorenzo. Insomma, in un momento in cui gli incassi e il box office faticano un po', in un momento in cui sembra che l'immaginario sia quello delle serie, si parla solo di serie televisive, noi pensiamo che produrre cinema, produrre cinema italiano, possa fare la differenza, e questa è la nostra proposta, questa è la proposta di Lucky Red. Grazie. Grazie. Grazie.